Ben trovati alla undicesima puntata di Femminile Plurale. Come avete sentito oggi parleremo di autismo. Il 2 aprile scorso si è celebrato, come il 2 aprile di ogni anno, la giornata mondiale per l'autismo. Un'occasione per riflettere, ma è il caso di ribadirlo non solo in questa data, ma bisognerebbe rifletterci tutto l'anno su questa particolare condizione di cui soffrono ormai tantissimi bambini e tantissimi ragazzi e adulti. E lo scopriremo proprio in questa puntata. Ma vogliamo puntare l'attenzione sull'autismo parlando di storie, parlando di esperienze, parlando di opportunità e anche di progetti. In questa prima parte, infatti, ho voluto dedicare la storia di copertina a Teresa Antonacci. Bentrovata intanto Teresa e grazie per essere venuta qui da noi. Perché Teresa? Perché Teresa, partendo un po' dalla sua esperienza personale, ha trasfuso poi questa sua esperienza nella scrittura. Teresa, partiamo dall'origine. Perché hai deciso di scrivere? In realtà la motivazione, poi scopriremo, che risiede anche nella tua esperienza personale. In realtà scrivo da una vita. Ho imparato prima a leggere che a scrivere. Scrivo da tanto, ho anche riscritto dei classici, mi sono divertita. Ho iniziato a scrivere qualcosa di mio da pubblicare subito dopo la diagnosi di mio figlio minore, diagnosi di autismo, insomma, di mio figlio minore. E lì, forse quello è stato il momento scatenante della mia voglia di confrontarmi, di misurarmi, di sfogarmi con la penna, anzi, con la tastiera del computer. Quindi raccontare un po' quelle che erano le nostre, quelle che sono, le nostre frenesie quotidiane, il nostro particolare carattere, il nostro modo di fare, di pensare, di vedere le cose. Teresa, hai usato il plurale? Che non è un plurale, ma è statis. Sì, ho usato il plurale perché a casa, insomma, siamo in tre coinvolti nella problematica dello spettro autistico, per cui penso di poterne parlare davvero in maniera diretta, con cognizione di causa, con parole semplici, perché alla fine quando si parla di spettro autistico in realtà è molto difficile approcciarsi a chi non ne ha mai sentito parlare. Per cui raccontarci, raccontarle la nostra quotidianità nell'ambito di storie belle, insomma, mi dà la possibilità di spiegare anche il nostro modo di essere, le nostre paure, le nostre stranezze, di farle vivere anche all'esterno e non soltanto farle comprendere in maniera semplice da tutti quanti. Teresa, il tuo libro forse è più conosciuto, ma semplicemente perché è stato pluriplemiato, peraltro, è la dodicesima stanza. Peraltro sto scrivendo il sequel della storia di Alina. In realtà abbiamo scoperto che hai scritto tantissimo, quindi tantissimi libri sono stati pubblicati, il prossimo che viene presentato... No, ne ho pubblicati sette, quindi il prossimo è l'ottavo, sì. Intanto nei giorni prossimi sarà presentato Enrico Fatto di Vento, e tutte storie diverse tra di loro, tranne appunto il sequel come ci raccontavi, però hanno questo tratto comune, cioè guardare appunto l'autismo da un punto di vista introspettivo, dal punto di vista esperienziale? Assolutamente sì, e ti dirò di più. Anche nella conseguenzialità delle storie seguono un filologico, nel senso che nella dodicesima stanza racconto di Alina, Alina sono io, racconto la storia di questa persona specialissima, sin da quando è concepita fino ai 50 anni, e quindi c'è tutto un percorso di vita che nel frattempo la coinvolge, e Alina sono io, e quindi diciamo che la storia, anche se all'interno di una storia inventata, il personaggio è proprio creato sulla mia persona in maniera particolare, insomma. Quando parlo di Enrico Fatto di Vento, Enrico Fatto di Vento già affronto la problematica di coppia quando una coppia riceve la diagnosi di autismo per un figlio, è una problematica seria che, come dire, crea degli squilibri notevoli all'interno di una coppia, anche se la coppia è legatissima, anche se c'è tutto l'amore di questo mondo, ma in realtà sono problematiche così importanti, così profonde, che creano veramente disagio notevole a un rapporto di coppia. e la storia imperfetta, invece, è già più maturo come tema, affronto sempre lo stesso tema. In questo ultimo libro ho voluto praticamente far conoscere le problematiche diverse che sorgono quando si ha la diagnosi e quando invece non la si ha. la differenza di vita vissuta in una persona che è consapevole di essere Asperger rispetto a una persona che invece vive, ha vissuto malissimo l'adolescenza e continua a vivere male la sua vita perché non sa di essere Asperger e quindi le problematiche, la modalità di visione della vita, di approccio alla vita è completamente diverso tra le due. In realtà sono due personaggi femminili, entrambi Asperger, ma è come se fossero una persona sola, prima e dopo la diagnosi. Teresa, anche in questo posso permettermi di fare un riferimento alla tua esperienza personale perché tu non sapevi... Assolutamente sì. L'ho scoperto a 46 anni quando abbiamo avuto la diagnosi, la prima diagnosi per mio figlio piccolo, insomma, che era 14 anni. Parlo volutamente di prima diagnosi perché è importante che si comprenda che queste diagnosi non sono mai il punto di arrivo, sono il punto di partenza per tanti cambiamenti nel corso della vita perché una prima diagnosi, poi c'è sempre una seconda, una terza, una quarta, ogni controllo c'è qualcosa che va meglio, c'è qualcosa che va peggio, insomma, diciamo che sono diagnosi comunque sempre in crescendo e sono sempre punti di partenza per nuove scoperte, per nuovi apprendimenti anche da parte nostra o degli insegnanti, insomma. Teresa, si è tornato a parlare di autismo, possiamo dire, con un clamore mediatico notevole in occasione del cosiddetto sciopero per il clima promosso da Greta Thunberg. Di lei si è parlato prima di tutto, e io credo in maniera forse non esatta, non esatta, del suo spettro autistico Asperger. Lei poi, il giorno della giornata mondiale appunto sull'autismo, ha detto l'autismo non è un dono, per molti è una lotta senza fine contro scuole, posti di lavoro e bulli, ma nelle giuste circostanze può essere un superpotere. Senza la mia diagnosi non avrei mai iniziato gli scioperi, abbiamo bisogno di persone che ragionino fuori dagli schemi e dobbiamo iniziare a prenderci cura l'uno dell'altro e abbracciare le differenze. Verissimo. Ti ritrovi? Io mi ritrovo sì, io mi ritrovo tutta. Io senza la diagnosi forse non avrei scritto, forse non avrei approfondito la tematica, fermo restando che la scrittura è sicuramente il mio interesse speciale, come il clima è l'interesse speciale di Greta. Ognuno di noi ha una sua particolare peculiarità, una particolare attrattiva verso determinati argomenti. Come mio figlio per l'informatica, attualmente per l'informatica. Mio figlio è nato, era un genio con i numeri, era veramente una cosa spaventosa. seguirlo, fargli delle domande apparentemente no, così, senza significato. Gli si buttavano dei numeri, dimmi quanto fa, 358 per 560, sto buttando dei numeri così, e lui in tempo 33 secondi diceva già il risultato. Questa capacità purtroppo l'ha persa, crescendo. Parleremo infatti anche di questo. Però dicevi appunto come ciascuno possa avere poi degli argomenti, delle tematiche, degli interessi. Si chiamano proprio così, interessi speciali. Il mio interesse speciale è la lettura e la scrittura. Io proprio approfondisco maniacalmente le mie letture, mi fisso, che è un fissarsi, insomma, che comunque comporta crescita su alcuni autori, su alcuni passi della scrittura, su alcuni romanzi in particolare. Poi magari sviluppo delle mie teorie anche a livello linguistico. Ecco, Teresa, di fronte a questi, come dicevi tu, interessi speciali, e lo dice anche Greta in questo pensiero che ho letto, cioè abbracciare le differenze, siamo in questa prospettiva, in questa direzione, anche attraverso la scuola, i servizi che, diciamo, la società propone, o non siamo ancora pronti rispetto a questo tipo di inclusione? Ci stiamo lavorando, ma c'è da lavorare ancora tanto. Cioè, forse la giornata per l'autismo serve anche a riflettere un po' su quello che bisognerebbe fare, no? Sì, un po' di più su questo argomento, perché effettivamente rispetto a prima c'è molta più inclusione, da questo punto di vista non mi sento di colpevolizzare insegnanti o la scuola, per così dire. Però effettivamente si fa un tipo di inclusione abbastanza piatta, nel senso che si tende a includere, quindi a far star dentro all'interno un bambino, nello spettro autistico, ma immagino qualsiasi tipo di disabilità, si tende a includerlo appiattendo la classe, il gruppo classe, cioè pensando che l'inclusione preveda che tutti imparino, apprendano le stesse cose allo stesso modo. Invece non è così, assolutamente no. Ognuno, al di là della disabilità o meno, ognuno di noi ha una particolare predisposizione verso un argomento, verso una materia. Perché non sfruttare quella particolarità, quell'interesse speciale per utilizzarlo a favore del gruppo classe? Ognuno di noi, purtroppo, per fortuna, ha delle particolarità. Sfruttiamole. C'è chi è appassionato di astronomia, chi di geografia, chi di informatica, come mio figlio. Lo era per i numeri, magari è così all'epoca, anziché gli insegnanti si sono intestarditi sul metodo da usare, per cui lo chiamavano alla lavagna, per mettere in colonna le operazioni. Quando lui era immediato, il risultato c'era, perché lui diceva di vedere i suoi numeri in testa, che si mescolavano e andavano chissà come al giusto posto, dando il risultato esatto. Se all'epoca non ci si fosse fossilizzati a voler far, a prendere il metodo, e quindi anche quella semplice scrittura alla lavagna di un'operazione in colonna, che lui non è mai riuscito a fare, perché è fortemente disgrafico, se invece di utilizzare quel metodo, avessero cercato di capire come facesse lui a trovare il risultato, avrebbero valorizzato lui, avrebbero esaltato la sua autostima, che è sempre bassissima, a favore di tutto il gruppo. Magari avrebbero potuto utilizzare questa particolarità, questa particolare genialità di Matteo, per crearci una favola sua, e quindi far capire anche agli altri, se magari lui utilizzava un metodo particolare per arrivare al risultato, farlo capire anche agli altri, perché probabilmente lui sarebbe anche riuscito a spiegarlo. Invece no. E quindi, insomma, da questo punto di vista... Si è operata una sorta di livellamento, no? Delle competenze. Sì, delle competenze, e quindi hanno appiattito un po', hanno smorzato, ecco, quelle capacità geniali che aveva prima. Teresa, un'altra riflessione che invece volevo fare con te, e concludiamo. Genitori che dovessero scoprire, ricevere la diagnosi di un figlio autistico, improvvisamente, come dicevi tu, ricevono... Crolla il mondo addosso. Crolla il mondo addosso. La prima sensazione è quella del disorientamento, a chi rivolgersi, cosa fare, e come orientarsi nelle scelte. Ecco, possiamo dare qualche consiglio alle persone che ci ascoltano? Assolutamente sì. Quali sono le scelte da fare? Scegliere, innanzitutto, magari uscire dalla condizione di solitudine, di isolamento, no? Questo è importante. Questo è importante. Condividere e chiedere aiuto, sicuramente. Ora, ci sono tante possibilità. Effettivamente, ci sono parecchie associazioni che lavorano. Sono fantastici. Veramente, ci sono alcuni gruppi che mi sento, ecco, di poter, magari non lo so se posso farlo così pubblicamente, però ecco, ci sono alcuni gruppi, alcune associazioni che veramente fanno dei progetti inclusivi bellissimi. Di questo ne parleremo anche a Trani, insomma, il giorno 10. Mi sento assolutamente di consigliare a questi genitori di armarsi di pazienza sia nei confronti del proprio figlio, della propria figlia, che nei riguardi delle istituzioni o anche della ASL, insomma, perché le difficoltà saranno tante. Però, ecco, se si affrontano le difficoltà in maniera più leggera, con la consapevolezza che comunque lo spettro autistico c'è, che non è una condizione invalidante totalmente, è una condizione che comporta tante, tante difficoltà, soprattutto nei confronti, diciamo, dei bambini che sono piccolini e che effettivamente si ritrovano magari a non riuscire neanche a spiegare quello che vedono, quello che sentono, quello che provano, che non riescono a uscire dal loro comfort zone, chiamiamola così, per cui magari preferiscono starsene in disparte pur di non affrontare un particolare rumore, un particolare odore o qualcosa che, insomma, è all'esterno della comfort zone. Non è una cosa negativa lo spettro autistico, è un dono. Lo so che parecchi non condividono la mia visione di spettro autistico in questo modo. Ovviamente ci sono tante condizioni. Infatti, infatti, si parla di autismi e non di autismo, proprio perché le forme e le modalità sono differenze. Però, ecco, quello che vorrei consigliare ai genitori è assolutamente di non abbattersi, perché di certo non si guarisce dall'autismo perché non è una malattia, però si può sicuramente migliorare la qualità di vita. E se l'approccio dei genitori in primis è proprio verso questa sensazione di migliorare la qualità di vita al proprio figlio, il miglioramento non arriva con un atteggiamento negativo, con un atteggiamento discriminatorio. Bisogna stare tutti insieme, condividere, parlare delle proprie problematiche, anche come faccio io, insomma, condividere anche con la scrittura, con dei giochi, con delle associazioni che magari propongono, insomma, tante belle cose. E armarsi semplicemente di tanta pazienza e di tanto amore. Tutto qui. Grazie Teresa. Il consiglio di leggere, magari per capirne di più, mi permetto di dire, magari leggendo proprio i tuoi libri, ricordiamo verrà presentato nei giorni prossimi, Enrico Fatto di Vento, ma di libri ce ne sono tanti, scritti da te, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta, perché, come dicevamo, il punto di vista è differente in ogni libro. Grazie Teresa Antonaccio per essere stata con noi. Adesso la linea va a Maria Chiara Pomarico per la sua Malerba, l'appuntamento di questa settimana.